Bentornati a Pillolo 81. Oggi continueremo con l'articolo 2, l'articolo delle definizioni. Parliamo oggi della valutazione dei rischi, della definizione di valutazione dei rischi. Abbreviato, visto che ci piacciono gli acronimi, VDR. Da non confondere con DVR, poiché la VDR è la valutazione dei rischi e la DVR è il documento di valutazione dei rischi. O solitamente si dice DVR. L'81 ci dice che dobbiamo fare una valutazione dei rischi globale, quindi c'è di tutti i rischi. Deve essere documentata, quindi dobbiamo avere trazza. Ma la domanda che ci sorge spontanea è, perché facciamo la valutazione dei rischi? Naturalmente per fare le misure di prevenzione e protezione. È questo il senso della valutazione dei rischi. Nella nostra valutazione dei rischi non deve mancare poi il piano di miglioramento. Quindi il modo in cui la nostra azienda andrà a migliorare, anno dopo anno, la sicurezza. Quindi la valutazione dei rischi che cos'è? Una valutazione di tutti i rischi con delle misure di prevenzione e protezione e con un piano di miglioramento. E anche con questa definizione abbiamo finito. Ci vediamo per la prossima pillola. Ciao! Ciao!